ho preso 5 e oggi nella verifica male molto male figliolo ma sono stato uno dei migliori gli altri hanno preso tutti meno di me non mi interessa niente di quello che hanno preso gli altri oggi mi hanno consegnato la verifica di matematica e ho preso 9 e gli altri cosa hanno preso faccio finta di non aver sentito